Noi siamo come CIS interessati a assistere i lavoratori sul piano delle difficoltà che sono presenti in questo mondo del lavoro sempre più oppresso dalla compressione dei costi quindi assisterli profondamente nelle difficoltà applicative dei contratti quindi abbiamo potenziato il nostro ufficio vertenza, abbiamo creato attraverso un percorso di formazione una serie di persone in grado di assisterli proprio sulle difficoltà applicative domani noi lo dedicheremo a questo tema, lo dedicheremo al tema delle vertenze al tema dell'importanza dell'applicazione corretta dei contratti dentro una strategia che vede un rapporto importante e significativo di collaborazione con l'ispettorato del lavoro di Sassari e dentro una strategia di collaborazione e di comune visione anche con ordini consulenti del lavoro come con altri ordini e le altre associazioni datoriali e sindacali che operano appunto in questo territorio